Io non ho sette fratelli a palazzo. E come mai sono andati a palazzo? Perché dopo quattro non dai via, perché erano tanti, erano i quaranta. No, poi c'era diviso, perché il mio papà, c'era il fratello a volte. Il mio papà era cinque figli con la prima mamma, con la prima mamma cinque, e niente cinque e lui con la seconda mamma. Voi abbiamo fratelli e fratelli, hanno segnato parentini oggi. E ancora se non è sempre d'accordo, Arnaldo, sempre lavorato tanto, abbiamo cento e vinti campi di terra, cento e vinti, tutta la bonifica, tutta piena, lavorato signor, come penso, tagli al formento, tagli al canne, cosa abbiamo fatto? E dopo mi ricordo fare, perché non è che teniamo i carotti e i crozetti del formento, e fiamo su, e dopo abbiamo portato il carro a casa, fare il paier, dopo il macchinale, qua a Tribbia, sotto a polvere, sotto a qualsiasi vita che abbiamo fatto. E vedete, ma io finno a piangere davvero, la vita che si è gaffato. E ancora il signor mi ha aiutato, e mangiare quello che è capitato. Mi ricordo con una fettina di salami, oh, mangiare di queste fette di punta, che parli, su mio buono parlare di italiani, e dopo, quando andiamo a casa, al mercoledì, mi ricordo, a mia zia, a mia parola di casa, ora, a mia zia, beh, un po', dopo le asti, e una anera, ora fai una bella teccia di mangiare. Veniamo a casa a mezzogiorno, tutti contenti, omni, femmine, tutti i centai, e là, mi ricordo, fai una punta, perché c'è un po' verde qui, grandi, fai una punta, che mi tocca di mettere il tagliere intero, e dopo con il corso, saltarla, perché, se no, non potevamo la calla, da grande, e le volte che fai, due punte, perché non bastava una. Vi avete fatto una specie di corso, era di gara? De gara, così tagliare più bravi, sì, che fai? Così, per sport, o perché per un? No, no, perché non finì a tagliare molto, veniamo finì a dargli la macchina, il gara di formento, assai, cosa che sia, ecco, e ora dopo, per finire, ho detto, beh, facciamo i casotti, e diceva, crozete, ma anche i casotti, ma ne sarei i miglioni, i miglioni, i miglioni, bravo, i giro, i miglioni, avevamo casotti, e ogni cuore che avevamo, ho crozete, e ora, caro, siamo messi a regata, e gara uno, un amico, e ha detto, beh, me e ti, ci mettiamo assieme, vediamo chi c'ha per primo, ho messo per primo, l'altro, e ma, se non vengono come premio, beh, niente, niente, abbiamo le portadini, che lavorei con la regata, che avevamo casotti, e ora, io ho detto, non è che aveva una cosa così, e una non, perché io ero, ma, non mi sono ma, 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 non ho detto, per vedo, per ricordo, mettei un ufficio, non ho detto, che faccia, che fia, che nasce, montano, e dicemo, e se la cana, era, diceva, è sopra il suo turco, era vero, era vero, perché, era un uomo, è taron, ma, capisci tu, arnaldo, non ho detto, per due da mania, nei, a poli su, e dopo metti, mo su, piñata, e face, e come se, c'a, me, dei, e, con la spogarnia, la grazia, e, la grazia, ma, 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 la, ma, 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 Grazie.